Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La sezione volante arresta un giovane quarantennero a Gusano, a esse le iniziali, incensurato, vittima una badante italiana di 35 anni, in cura al centro di igiene mentale dell'ospedale maggiore di Modica. I particolari dell'operazione sono stati resi noti stamani dal dirigente della sezione Antonio Ciavola. La donna aveva conosciuto l'uomo in chat oltre un mese fa. Da prima l'uomo l'aveva aiutata economicamente in cambio di prestazioni sessuali a pagamento. Alle rimostranze della donna, che non sopportava più i carichi di lavoro come badante, le aveva poi proposto la strada della prostituzione. Inizialmente attraverso le cosiddette camera cares, ovvero webcam a pagamento dove la donna si mostrava nuda, successivamente prima ad Ibla e poi in un immobile del centro storico superiore ricevendo i clienti a casa. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della sezione volanti, aveva allestito ben 15 bacheche virtuali, dove oltre a proporre le prestazioni a pagamento della giovane donna, forniva una serie di consigli ai clienti per evitare disagio e proteste da parte dei vicini disturbati dal via vai dei clienti. La situazione era però degenerata lo scorso 29 marzo. Alle proteste della donna, che invece della metà intendeva pagare solo un terzo per le garanzie da lui offerte, lo sfruttatore l'aveva picchiata. E il giorno dopo la donna era stata ritrovata agli agenti della volanti in stato confusionale in un bar del centro storico. Da lì il racconto della triste vicenda da parte della donna che andava avanti ormai da oltre un mese. Gli agenti della sezione volanti a questo punto hanno organizzato un nuovo incontro tra i due nell'appartamento dove riceveva i clienti, con la scusa di un rifornimento di preservativi e gel lubrificanti. Appena giunto nell'appartamento, l'uomo ha trovato ad attendere gli agenti. Il quarantenne ha ammesso le proprie responsabilità e ora è agli arresti domiciliari. Noi sottolineiamo il fatto che siamo riusciti a conquistare la fiducia di questa donna e lei ha rotto il silenzio denunciando i fatti di cui era succube. Chiaramente subiva nel dover fornire queste prestazioni sessuali a pagamento dove chiaramente doveva dare parte del compenso addirittura la metà a quest'uomo che l'aveva aiutata in tutti i modi nel prostituirsi. Il reato ripeto che distrugge una donna o in generale chi si prostituisce, per noi è importante sottolineare questo e che chi ha bisogno della Polizia di Stato, la Polizia di Stato c'è.